L'altana del frerito Ciao Broderigno Dai rispiego il format così almeno Capisco tutti e si inizia Ragazzi ci sono due squadre, il team di sopra è composto Da Simone e Kokeshi e il team di sotto è composto Da Joey e Manuxo. Come funziona il format? Entreranno a turno Un ragazzo a testa dove Parleranno una lingua particolare E ogni team dovrà fare una guess E indovinare di dov'è il ragazzo Dove parla o comunque in che lingua sta parlando Chi indovina o chi ci va più vicino A livello geografico vince un punto I ragazzi di oggi sono circa più di dieci Forse anche quindici Quindi andiamo spediti con tutti quanti i ragazzi Tra l'altro li sono le bet, bettate Secondo voi chi vince? Il team Joey e Manuxo Oppure il team Grimbao di Kokeshi Buona visione Primo ragazzo, MeToo Ciao Solo la tua lingua E mi prenoto Vabbè tranquillo, non è una gara E no come non è una gara No io pensavo dovesse finire No facciamogli fare un dialoghi Fai anche domande E poi man mano Voi fate la vostra guess E noi facciamo la nostra Certo In quel senso Ma vai 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 Ma vai che noi si Eh mi prenoto Mi tu posso chiedere se ci puoi dire L'alfabeto nella tua lingua E a me il lag ragazzi fa ridere Non è MeToo che fa ridere Ma è il lagut È proprio lag MeToo Mi sentite? Mi sa che è in quel paese Eh laghi un po' MeToo È un po' laggante Vabbè comunque abbiamo già sentito un po' Simone Koch volete... Io voglio dare una risposta Io ho la mia... Vai con la tua guess Niente domanda? Ah sì Io ho una domanda No però non posso fare le domande tipo di indizi sul suo paese No Sì no Magari non gli chiedi dove abita bro Eh no Sveglia Ok Io ho la mia guess La mia guess La mia guess È India Vabbè io però non sono d'accordo Allora dimmi quella tua guess Mettiamoci la cosa Manu tu cosa pensavi? Secondo me è Bangladesh Ok è India Ok Secondo me potrebbe essere Pakistan Pakistan bro anche a me è bello galdo il Pakistan Cioè lo vedevo proprio eh Io sono anche molto amico di alcuni amici pakistani La notte quando ho fame E... Vabbè Io Manu confermiamo Accendiamo A me sembrava molto indiano eh Però... Eh... Allora onestamente L'India è la guess più semplice Però vabbè vuole prendere il punto Simone Diamo io il primo bro ai bimbi Sì dai vabbè Oh senti questa Simo Senti questa però aspetta Simo Srilanka Srilanka Cazzo di lingua eh Ma cos'è c'era srilanchese? Sì Ma poi scusa bisogna un attimo anche capire Cioè magari lui Stai alzando la mano Perché tu parli anche italiano Beh certo Ok vai Vabbè sì 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 Ok c'è fai fede io Comunque posso già dire Chi è che ci ha fatto più vicino No aspetta 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 No 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 Non abbiamo ancora deciso Ok ok Attenzione 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 Vorrei far notare che ha fatto capire Che mi sa che nessuno ci ha indovinato Perché ha detto Vi dico chi ci è andato più vicino Cazzo No 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 Io c'ero un'altra Coc non leggere Ma non c'ero un'altra Ma non c'ero leggendo Non mi viene null'altro Secondo me è singalese È del single Cazzo è il single bro Non lo so Senegal Senegal Ah Allora Sei il single Pensavo fosse del single Bro Allora Me too Un silaggante sei single Vai bro Ti prego Dai no Noi accendiamo Io e Manu Lasciamo così Accendiamo il Pakistan Allora io Accendete la India Dai Io accenderei Bangladesh Va bene accendiamo Bangladesh Bangladesh merda Va bene Me too C'hai indovinato qualcuno di noi due Noi quattro Allora Una persona ci ha noto vicino Che sarebbe Sia Simone che Coc Perché Sono spia di Sono dello Sri Lanka Ma non sono singalese Sono un'altra lingua Che sarebbe il Tamil E allora è sbagliata No no Però Coc ha la terza media però Coc ha la terza media Sì non hai detto Che parla Tamil Coc Ma che cazzo dici È sbagliata Che cazzo dici L'hai già lasciato È sbagliata È sbagliata Simone Ma come cazzo L'hai tirato fuori Il singal No L'ho rato in chat Ma raga Ma scusa Cioè nel senso Però Joe State molto calmi In questo caso Il punto non si dà Perché non è indovinata La lingua No il punto Il punto lo piglia Chi ci va più vicino Con lo stato Lo stato originario Mitù qual è? Sarebbe Sri Lanka Aspetta Voi avete detto Bangladesh Aspetta Però abbiamo detto Eh no Però è la risposta Definitiva che conta Mi sa Coc Quello è vero Eh Bangladesh Che cazzo Eh Bangladesh È vicino Sri Lanka No B2 È più vicino Il Bangladesh O quello che hanno detto Loro Non me lo ricordo Pakistan È più vicino Mi sentite? Sì 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 Ah ok ok E Teoricamente Proprio Devo dirvi È una tra cocca e stimone Comunque Perché Pakistan e Bangladesh Sono in India Quindi non c'entra Cioè nel senso È un'isola Alla fine Sri Lanka Eh ragazzi Mi spiace Ma il mio Bro Siamo molto più vicini Noi Dai Fai bravo Ti fai chilometraggio Il chilometraggio Vogliamo Il chilometraggio Certo bro Allora Vediamo Però non siamo andati più vicini Dai Io l'avevo detto Sri Lanka Non mi date mai retta Ma non l'hai mai detto Cosa hai detto Bangladesh De rifiare la tua cagata Ho detto Sai cosa Simone Sri Lanka E mi avete mandato a cagare Ok Dimmi dov'è lo Sri Lanka Cocco Sotto l'India Brutto coglione Perché ho controllato Prima di dirlo Perché volevo capire Dove era lo Sri Lanka Però mi sembrava Sri Lankese Allora Qua c'è il Bangladesh Struzzo Dai ragazzi Meta No è il Bangladesh Ok è il Bangladesh È il Bangladesh È il Bangladesh Sì Ok bene Primo punto noi Grazie Mitu Andiamo spediti Che sono tanti Andiamo spediti Perché sono tanti Ciao Mitu Grazie Oh 20 sub Regalate Chi vince C'è Sì Ma sai che Zio Ma sai che Quasi Quasi No No 10 Posso fare il figlio 10 10 10 10 5 10 10 5 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 Ciao Danny Buongiorno Buongiorno In crociate Dimmi Posso dirlo io Capo verde Non fare no con la testa Allora Cocco Capo verde però Cocco Allora Simone Allora Ragioniamo Una testa Allora Cocco Ma cosa guardi la cartina Non è che vedi la sua faccia Nella cartina Ma che cazzo vuol dire Sì invece Vedo cosa c'è vicino A quella zona Che mi interessa Danny posso dirti Che sei un bellissimo ragazzo Era molto bello Te lo scopresti Veramente drippato eh Veramente Cosa Te lo scopresti No è un bel ragazzo Che drippa E che insomma Scoppa come un buono Che drippa Un buono Io ne ho una Simone Ok vai dimmi Cocco No però aspetta no Perché mi sa che In Peru parlano messicano Forse Che cazzo di lingua Parlano in Peru Peruviano Esiste? Certo c'è la musica peruviana Allora se io dico Peru Tu cosa dici? No allora Il cappellino È giallo Dobbiamo indicare La nazione o la lingua? La nazione Da cui proviene la lingua La nazione Dici Danny Puoi parlare un attimino Di nuovo? Cioè nella telecamera C'è un indizio Non vi dico quale Però c'è un indizio Ok Io confermo la mia Ah attenzione Attenzione ma l'indizio Ok Io confermo la mia È tipo molto palese insomma E poi puoi fare Puoi dirmi Mi chiamo Danny E ho 8 anni E mi piace giocare a calcio Ok Mi ha nomi Denilson Ten 21 E un Gustavo gioca a bola Allora Argentina La lingua Ed è di capoverde lui Bro Denilson era quello di Tre uomini in una gamba No di così la vita E Denilson Sì Quando Giovanni tirava il pallone Denilson Attenzione è vero La Colombia è interessante Vabbò Noi accendiamo Che sta parlando In portoghese Io direi Brasile Però mi fido di Manu Perché è molto convinto Accendiamo Ah non perché prima Ha detto di no con la testa Vero su Brasile Perché ti fidi di Manu Ok Devi stare Io dico capoverde Io dico capoverde Io mi fido di Manu Mio fratello Manu Pagherà tutte le decise Cocco Cocco di qualcosa Cile Ok va bene Mi piace Cile Io dico Cile Ok anche per me Posso dire una roba Ora che abbiamo chiuso le guess Siete veramente stupidi Perché in Cile Si parla uno spagnolo Prego No Terza media del cazzo Cosa non hai sentito Denilson È capoverde Vabbè Manuxo Vabbè Manuxo Allora Se Manuxo fosse nell'altra squadra Direi Vabbè sta imbrogliando Vabbè veramente forte Ma come cazzo hai fatto A prendere capoverde Ma a capoverde C'erano andati Guarda la maglietta Guarda la maglietta La maglietta Federazione Capoverda Sì è quella bro Vabbè L'esperto di calcio Allora vaffanculo Scusa Mi sentite bene Oggi tutti con una connessione Spettacolare Vengo proprio da quei paesi Lì Connessi da lì Dici Iuriello Per quanto possiamo capire Io la so Ma anch'io la so Ma Io faccio la Non faccio una guess Ma Confermo la mia risposta Questa lingua qua È serbo Serbo E io confermo la mia risposta Questa lingua Ah no aspetta Manu Per me è russo Centocento Per me è russo Ma potrebbe essere Anche zona limitrofe Tipo Kirgikistan Kazakistan Quelle robe Siamo vicini Siamo più vicini di lui O Polonia Va bene Polonia anche Oh ragazzi C'è l'hype train È il momento di sabbarvi È il momento Sicuro Polonia Sicuro Sicuro Di dove sei Yuri? Giusto Russia Dai Coq Mamma mia Ma di qualcosa Di qualcosa Ma hai fatto tutto da solo Non mi hai neanche interpellata Coq io te l'ho chiesto Ho fatto l'occhiolino così Lui t'ha fatto l'occhiolino E tu non hai risposto Mi spiace Simone Per il tuo confronto Io ho fatto così Coq ho fatto Allora io sono sicuro Di una scelta Coq aiuto Sono sicuro di una scelta Che è per me Serbo aiuto Coq aiuto E tu zero Non mi riparo Non mi riparo proprio Vabbè 2 a 1 4 a 1 4 a 1 2 a 1 Indoviamo giuste 2 No Dai E 3 6 a 1 Figlio di puttana Grazie Iuriello Quello che ne rimane Peccato per il lag Veramente brutale Ok Buonasera Ciao bro Vai Bella bi bro Piccola premessa Manu dovrà cavarsela da solo Perché giove lo sai dove sono Scam Ahia Ah vabbè Un'inculata Voglio solo dire una cosa Voglio solo dire una cosa Prima che parla Lui è Un mio amico Con cui faccio le vaganze Da un po' di anni insieme Non dirò assolutamente niente Non faccio niente Cioè c'è un bastardo Appena è rientrato Tu hai fatto finta Di non conoscerlo Pezzo di merda Ho capito solo sborra Allora Simone Gli italiani spesso vanno in Croazia A fare le vacanze Ok È vero Questa è un bel posto Per andare in vacanza La lingua Ci assomiglia Aspetta aspetta Parla ancora Parla ancora Perché io Parla ancora Ci chiediamo Inoltre Adesso mi chiede Come si dice Nonna Nella tua lingua Totti Allora no Totti Totti No no Totti Team of the season Guarda Gioia Hai scritto a Manu Ma se sono fermo così Sei un pezzo di merda Fai vedere Apri il telefono A vedere le chat Non provate a imbrogliare Pezzi di merda Guarda Guarda che elimina Guarda che il pol Il pollice No zio Non posso farti vedere Le chat No non posso È un pezzo di merda Non c'è nulla Non c'è nulla Non posso farti vedere nulla bro Cioè ci sono robe mie Private di Manu Manu gira il telefono Fai vedere le notifiche Ma lì Ma era in culonia Ma come cazzo lo prendevo Giuro Giuro Hai due telefoni Ho due cellulari L'ultima chat di sabato L'ultima chat di sabato No no Ma non mi ha scritto un cazzo raga Ma poi vedi se indovina Zio Se indovina Buona Gliel'ho scritto Dai Ok allora Cocca cosa mettiamo Hai ringraziato Su una sab Cocca? No ride Ah ok Si basta Di chi? Cerbero Ah ciao Vabbè non è a me Mi rifà un culo Cerbero Cocca Fai una Una guess Cocca Eh Eeeh Cioè Quindi nonna Non si dice così In croato Simone No 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 Io pensavo Pensavo albanese Però non è albanese Beh Non lo so Io Confermerei il mio Croato Onestamente Dov'è Pag? In Croazia Croazia E Ucraina? Io sono forte Io sono forte Aspetta Io sono bravo Con le capitali Non con Che cazzo parla Nelle capitali Capitali della Croazia? Ehm Zagabria Zagabria Bravo Ok Ok perfetto È Croazia La sa anche lui Dai No no Le so tutte Però è risultato Un po' troppo Per me Per me È Turchia No Però non fare quelle face È di pin Piacendo Turchia Ho fatto tutto Come si dice Acqua È un'altra lingua Giur Sì Te lo giuro Dimmi come si dice Acqua Potrebbe essere Anche una lingua Un po' inventata Lo posso dire? È Turchia È Turchia Vai Armenia Però è attaccata La Turchia Ah Erevan Ok perfetto Vabbè a questo punto Non vale Perché ovviamente Giulia Ha detto a Manux L'abbiamo detto anche prima Che se Manux Avesse indovinato Vuol dire che l'ha detto Ma non ho indovinato L'ho presso il confine Ebbè è chiaro Perché abbiamo detto prima Certo Ha scritto di Turchia Così non pensi Dai Mamma mia Ma veramente Io dico Ragazzi Posso dire che sta facendo Il bambino No ma sei tu che stai facendo Il bambino Dai No ha ragione invece Ha ragione Sono con Simone Non è Il punto non vale No Gioia posso dirgli Come è andata Posso dirgli Esci subito Perché ti devi vergognare Sì Mi ha scritto Mi ha scritto Georgia Che è attaccata All'Armenia Vaffanculo La tattica Ce l'avevo L'avevo capito Ma che pezzo Di merda Io però Non sapevo I confini della Georgia Quindi ho detto Turchia sulla fiducia mia Ma non sapevo Cioè era un indizio Vabbè allora Allora diamo il punto a manucrisco Perché poverino Ha ghesciato Sul suggerimento di Gioe Ma è grande Punto non valido Ma no no Punto non valido Perché Gioia mi ha detto La nazionale sbagliata Dovevo essere onesto Ma vaffanculo No questo ho già messo sul cazzo Vattene via La nazionale sbagliata Raga dai Ho fatto tutto di testa mia Raga ve lo giuro Sì però posso dire una cosa Ciao Io ho dato Manu Ero zitto Manu mi fa Due teste di cazzo Vabbè comunque No però avrei detto Turchia E non gli sembrava turco Ne sai Vai sgravato Allora Oppure Prova a dire gelato Prova a dire gelato Prova a dire ciao Cinese 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 Aspetta Aspetta Bin chillin Bin chillin Bin chillin Bin chillin Significa gelato Aspetta Dimmi grazie Di grazie Bin chillin C'è c'è Cina C'è c'è cina Però l'ha detto prima C'è cina Allora aspetta Rischiamocela Secondo me è della repubblica Di hong kong Ah dici proprio Andiamo a nello specifico E beh certo No ha detto già di no No cambio idea Comunque Eh no Eh no Aspetta non l'ho accesa Oh Manu guarda Tu di stare zitto Dopo la 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 Allora Non è un ladrato Io giuro Prima è ladrato Beh prima la ladrata c'era No dai Ma ho detto Turchia Non so come Anche che cazzo Eh ho capito Però avete cercato di ladrare Vabbè comunque Secondo me Io la butto su Taiwan Per me è cina bro Per me è cinese Non so se si parla Il cinese Punto Ma Taiwan è in Cina C'è 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 cinese Ok però Cosa cazzo hai detto Kok Taiwan è in Cina No Taiwan è in Cina È una repubblica È un'altra nazione a parte Come Hong Kong Come Hong Kong Devi dire la Croazia Che in Italia Cioè No 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 Ragazzi Ragazzi io la sto studiando Stavo in università Diretta Hawaiian in Cina È come dire Che è il Donbass È della Russia In questo momento Non l'ho capito Vado a far la pipì Vado a far la pipì Ma è Taiwan Anzi Secondo me Sei nato in una gangbang Vabbè Io mi dissocio Da si Ma io Che schifo Perdonaci Per questo coglione Veramente Cioè io Quindi loro hanno acceso Taiwan e noi Cina Sgravato Come ti chiami? Andrea Andrea Esotico Dove vivi? Penso che sia in Italia Emilia Romagna Emilia Romagna Ok Provincia di Reggio provincia di Reggio Emilia Piatto preferito? Italiano Oppure Di me a entrambi Di me a entrambi Ma entrambi Cina Andiamo sul classico Andiamo sul ramen Ma ha detto per caso In Cina? Vabbè Cina Cina si sapeva Vaffanculo Non so perché lui Ha deciso di dire Taiwan C'è uno che sarebbe quattro Però Che sarebbe quattro Però siamo onesti noi Oh cinque Comunque Andrea Grazie mille per aver Grazie mille per aver partecipato Andrea Ok cos'era? Cos'era? Mi spieghi perché hai detto Taiwan Taiwan era palesemente cinese Perché non potevamo Dire la stessa risposta No? Sì invece prendevamo Entrambi il punto No 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 Non potevamo dire la stessa risposta Allora Che cosa vuol dire? Voi prendete la risposta migliore E noi dobbiamo prendercela Perché è anche una gara a tempo È anche una gara a tempo È anche una gara a tempo Dai Ciao bro Bella Andrea Ciao bro Ciao 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 grazie Ciao Ma prima avete detto Che non è a tempo Vabbè Allora bro Ti leghi dal cane Ok ok ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Romagna Tutta l'Asia Ciao Ciao Buonasera Italia Se posso incominciare Certo Vai Prigo Ce l'ho Ce l'ho Io ce l'ho Io lo posso anche chiudere Ok chiudilo Faci Manu ti fidi stavolta? Mi fido di te vai Filippino Ok Io Vai avanti Parlare Voi avete chiuso Vai avanti Però la lingua Mi sembrava diversa Dalle filippine Devo dire Filippino Devo dire altre cose Vai avanti Sì 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 Ma è un misto tra giapponese Non capisco Aspetta Dimmi ciao come stai No Giove tu zitto Non puoi Ciao come stai Ciao come stai Grazie Come on Come on come on No si ma non è Puoi dire guarda chi c'è Nicola Zhang Eh Nicola Zhang Eh non è Nicola Zhang Eh Simo Simo e Kok Che state Kok ma te giochi Io ti fai cazzi tu al telefono Kok è Ho bisogno Io ho bisogno Di guardare la cartina Per capire i posti Potrebbe essere Anche Indonesia Manu e Simone State guardando la cartina Voi due? No Non è tra le regole Non guardare la cartina Ma Giove ma tu parli Giove tu parli Di imbrogliare Non abbiamo imbrogliato Sì Perché purtroppo Manu non sapevi neanche Come arrivare a imbrogliare Però l'imbroglio c'era Potrebbe essere Genuina la mia guess Indonesia Eh potrebbe Eh No aspetta Non dirmelo tu Non dirmelo tu Non rispondo Non rispondo Accendi una Vabbè dai Cos'è che devo dire Scusa Tu non dire niente Tu non dire niente Aspetta Se sbagliamo Le rifacciamo ovviamente Allora Ieri ho visto Un porno Thailandese Ed era molto simile Il tipo No no Non devi tradurlo Ti prego Traducerò Traducilo 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 No 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 Andate 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 Ok ok Andiamo Ciao Allora dai Vabbè datti una guess voi due Thailandia Coc Facciamo così Decidi tu Ma Thailandia l'ha già detto Joe E non possiamo dire Thailandia Ho detto Filippine Ma manco stai ascoltando Filippine Filippine E allora Thailandia Ci sta No ci sta Sì 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 Però non è thailandese Aspetta metti No è bannabile Vai Ma va bene tutto Cosa bravo Cosa è giusto Mi hai chiamato Com'è mi hai chiamato te TK Bravo Bravo Punto Punto No 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 Aspetta Aspetta Ci c'è In inglese Devo dirvi dove vengo Sì Sì Dai Ragazzi Avete sbagliato No Sei vietnamita Ok posso prendermelo No Ma che cosa vuoi Ma vaffanculo Vediamo chi è più vicino Vediamo chi è più vicino Posso prendermelo Anche più vicino Cioè guarda questo Minchia Io Gioe tu Siamo veloci Tu vedi Vietnam Simone e loro imbrogliano Dobbiamo controllare anche noi Tra l'altro Siete comunisti lì Di brutto No Eh no Come no Vietna Allora Vietna e Filippine Sono a 1400 km No zio La Thailandia è praticamente confinante Cioè c'è solo di mezzo la Cambogia Godo Godo Allora ragazzi Allora Ah Avete fatto due Due guests Solo con i confini No ragazzi Ma ma È ovvio che sono vicini TK Va al mare in Thailand Dai All'estate vai al mare lì Ma no Non ci vado da un paio di anni Almeno sette anni Ma però In Vietnam Eh sì Ok Però fa le vacanze Due settimane al mare Le fai in Thailandia No Ma che cazzo dici Ma sono vicini Ma come no Ma Non c'è un l'acqua del Nilo Sono del Vietnam Cazzo vanno in Thailandia Comunque Volevo gassare Volevo gassare le vacanze Grazie TK Grazie mille Ciao Grazie mille Ma quanti punti siamo? Allora Due A? Siamo tre a due per noi Ok Tre a due per noi Sì Vorrei solo dire una roba Io ho azzeccato il nome Ho azzeccato il stato Esatto dove abita Ma non me ne frega niente Mezzo punto e mezzo punto sarebbe No Ma no Ma più che altro Io farei la regola Che chi indovina il confine Prende uno Chi indovina diretto Prende due Sì ok Quello è vero Quello è più vicino Prende due Secondo me Quello secondo me Il concetto Il concetto qual è? No Il concetto qual è? Mi sono dimenticato Facciamo entrare il prossimo Ah no Sì certo Che Gioe Non c'entra un cazzo Che ti becchi mezzo punto dopo Non è che a chi vuole essere migliorato L'accendiamo? Sì L'accendiamo Eh no no Cazzo Eh vabbè Sì era quella lì Lo so E vabbè dai Allora 500 euro Te li diamo Non è che c'è risconti No no Allora Il mezzo punto no Perché la guest Deve essere quella più vicina Però secondo me Premiamo di più Ok sì ci sta Chi indovina diretto Due punti ci sta Ok Siamo cinque Allora siamo cinque A due Due Ok Sei ancora convinto che ci stia Simone? Nats Ciao Nats Tedesco Vabbè dai Ce l'ho Eh? Ce l'ho Vai Chiudi la mano Chiudi la mano Dovrebbe essere Russia Ma È possibile che abbiano fatto entrare Più di una persona Della stessa Non credo Zio sei con l'Ucraina Allora Ucraina Allora Ucraina Perché hanno la stessa L'Ucraina Chiudiamo Ucraina Ok avete chiuso Ucraina Riparla un attimo Di ciao come stai A me sembra serbo La lingua è russa Io ho visto un film in serbo E ne parlavano così Scusa prova a dire E ti picchio stupida puttana No No ma perché era una frase del film Che me la ricordo Perché suonava bene È proprio per una questione Ho voglia di Ucraina No non era così Era più Puoi Aspetta aspetta Puoi dire Zia Zia Sì È tipo Ciocia È russia C'è un brucio Abbiamo Ucraina È ucraina Eh no avete detto Ah no hanno detto Abbiamo detto Ucraina Abbiamo detto Bielorussia A questo punto Premo russia Bielorussia Russia Vabbè La risposta esatta è Gioia ha ragione E due punti E due punti Sai perché Perché c'è una mia amica ucraina Che una volta mi ha detto Io c'ho una nipote Che tutte le volte Lei si chiama Elina E la nipote la chiama Ciocia Ela Che ciocia vuol dire zia Io ho detto Come si dice zia E lui Ciocia Sos Grazie Nazio Grazie mille Grazie a voi Ciao Manca te Ciao Simone Quanti punti Ciocia Stai zitta Che veramente Come avere in squadra Un bradipo figa Cos'è Quanti punti siete Quanti punti siete Sette Sette Sì Perché tre volte Abbiamo indovinato lo stato E una volta Ciao ragazzi Ciao Loris Ciao Loris A voi Volevamo a Loris Ma Dividete Nazro A Sono Sconciuto A Tentorock A Terza Nel Ciac Am I Do University No Questo è di Salerno No Dovevo dire Che Doveva succedere Da Come ti chiami Di cognome Loris Zanet Zanet Insomma siamo Nell'est Europa Zano No Zanet Vabbè Est Europa Mi sembra Abbastanza palese Siamo nell'est Europa Secondo me Non è Albania È Oriente No 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 Insomma siamo Ancora in Europa Dell'est È Euro Oriente Europa Orientale Che Siamo Aspetta Possiamo fare anche questo tipo di domande Sei religioso Sì Ok Qual è il tuo dio Allama Ometto Buddha Odino Dio Zio Dio No ma Piuttosto Piuttosto chiedi Sei cristiano Sei ortodosso Ok Ma che cazzo Me ne frega Se è ortodosso Me ne frega Se gli piace Alla o no Come fatti C'è Alla Aspetta Aspetta Puoi ridire qualcosa In La tua lingua No stai zitto Loris Una domanda Se io prendo L'aereo Posso chiederlo Quanto tempo ci metto Ad arrivare Lo posso chiedere Ragazzi Eh no Ok Serve anche noi La risposta Tanto ti dirà Due ore Due ore e mezzo Con due ore e mezzo C'è mezzo euro Ma infatti Una domanda inutile Ma allora Chiediamo Per arrivare nel tuo paese d'origine Con l'aereo Quanto ci metteresti So Tipo qua Da Milano Sì Sì da Milano Sì scusami Un'oretta e mezza Urca Ok lo so È della Tanzania No Lloris qual è un piatto tipico Del paese Del tuo paese Può chiederlo Oppure è un po' No rispondi rispondi Gulag Il gulag Il gulag Il pubblico cica 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 No 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 Non è il pubblico cica Ok coche Di qualcuno che pensa Ma non so Ma c'è donna Aspetta No mi serve un'ultima frase Mi puoi dire Oggi non mangi Figlio di puttana È un gherese Avevo la babysitter Ungherese Sì vabbè dai Manu Noi chiudiamo Porca di quella troia Cocco mi spieghi Hai il telefono in mano Da due ore Cocco Ma fai qualcosa Cerca Bara Fai qualcosa Tu invece sei utilissimo Sei veramente utilissimo Ma io sto cercando Di fare un gioco serio Manu Sta barando Giù sta barando Io non sto barando Bar anche tu almeno Ma raga dai Ma raga dai Non piantemi per il culo Dai Che cazzo ne so Di dov'è Scusami Non lo posso Ma Manu per forza Stai barando Non ho mai visto Nessuno sentito Sulla sedia così Per forza Manu è Il saputo che è un baro Cosa Cocco Manu si sa che è un baro Vabbè Manu si sa che è baro Vabbè Gioia Che baro Scusate E quale sarebbe Il modo per barare C'è il telefono davanti Il telefono davanti Dai Ok io ce l'ho Che cos'è No abbiamo detto Ungherese Di cercare quello che ha detto lui Comunque io gli dico Slovacchia Secondo me è di Bratislava Prego Ma secondo me è Ungheria No 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 Posso chiedere una cosa Posso chiedere una cosa Manuxo Dimmi Perché la tua babysitter Ti diceva Ste zitto figlio di tutta Ma dice cazzate Ma dice cazzate No 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 giuro No giuro Mia madre l'ha licenziata Dopo una settimana Mi faceva mangiare De chewing gum a pranzo Non c'aveva voglia di cucinare Dai Hai googlato Hai googlato la storiera Hai usato google traduttore C'ha GPT Ragazzi Va bene Dai Va bene Io confermo Penso che non si può fare La traduzione in tempo reale Con l'audio del cellulare Per me è Ungheria Per me è Ungheria No 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 Albania Albania è sbagliatissimo Ma va Albania ha un sacco di amici albanesi Cioè Fidati Allora Slovacchia Cos'è che hai detto Slovacchia? Slovacchia Bratislava Slovacchia Io Tiro la guest Slovacchia Voi ragazzi? No aveva già chiuso Joe Con No abbiamo chiuso Ungheria O Ungheria o Bulgaria Ma penso più Ungheria Ok Ungheria Vai Loris Hai indovinato Simone Ma dai Me la dovevi ducciare Bratislava Is the capital of the world Ragazzi Io avevo la nonna Della Slovacchia Come? Slovacchia Sì sì Slovacchio No la città non è Slovacchia È lo stato No no È lo stato È la città? La città sono Io sono verso centro Slovacchia Poi è una piccola cittadina Ah certo Nei pressi di Astur Sembrava Ungheria Sembra O Bulgaro No no è vicino Ma io conosco benissimo la Slovacchia Posso dire una cosa? Dimmi Joe Mi puzza veramente tanto Dai raga Ho le mani Ma cosa? Ma zio no Vedi che c'è Tu devi esplodere in mille pezzi Come qui in Giorgia Signori di Twitch Io mi sono molto offeso Per questa frase Oh senti Joe Senti un secondo Aspetta Sono l'unico che non sta barando Sono l'unico che non sta barando Eravamo 7 a 2 Avete indovinato esattamente Ho sbagliato come ho potuto barare 7 a 4 Comunque il gulasch è ungherese Chiedo scusa qui in Giorgia Chiedo scusa qui in Giorgia Chiedo scusa qui in Giorgia Io le voglio bene Alexa Qual è il piatto tipico della Slovacchia? Secondo Wikivoyage Alcuni piatti Prodotti tipici della Slovacchia Sono la farina Le patate La pizza E il gulas L'acqua 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 C'è di più paesi Cioè ma ha detto l'acqua C'è un piatto tipico del Quello c'hanno Cioè nel senso Quelli sono Nel senso che Hanno dei grandi Le loro materie prime Sì hanno Sono pieni di Quelle materie L'acqua La pizza Vabbè No non farla Joe Non farla Non farla Cos'è cazzo voglio Che Loris Vada via Siamo 7 a 4 Ok perfetto Grazie Loris Grazie mille Di niente Ciao ragazzi Ciao 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 Pezzo di merda Ma Chiedetemi scusa Pezzo di merda Loris Chi è che deve chiederti scusa? Chiedetemi scusa Ma chi? Perché? Perché mi ha detto Ho barato Ho sbagliato Ma tu bari Tu bari di base Bari sempre Joe e gli hanno donato Una sub dicendo Slovacchia Vabbè Non mi hanno dato A parte che Sì è vero Tre minuti fa Mi è arrivata una sub A parte che ho Questato prima di tre minuti fa E poi comunque È la Nostcam Timber Dai Andiamo avanti Così No ma allora Ma Non so se è bannabile Far entrare lui Però è Contestualizzato Non lo È l'unico No Cosa sta succedendo Simone C'è qualche bandiera strana Qualche busto No bro Non so se farti entrare Perché Germania 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 No 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 Il tuo username È un po' bannabile Se lo puoi Ma cambia Glielo Cambia io A te Figa Però non so se Però L'ha scritto lui Io non c'entro niente Cioè L'ha scritto lui Però tu lo sei Vedo vedere Cambia il nome E fa l'entrare Ok Aggiungi una lettera Al massimo bro Al massimo bro Se ci tieni a custodi Quando ti metto dentro Lo rimetti tu da solo Perché sennò Sembra che poi L'ho perso io Adesso ti chiamerò Ciao Se poi tu ci tieni Particolarmente a tu username Quando entri Lo rimetti Ok Così la billaden Ciao Joe Ma che cazzo Mi sono sperato a casa No 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 Ciao E purtroppo Lo fanno Io ho una domanda Bro ci sei Cos'è la spezia tipica Del tuo paese Vorrei capire Quale la tecnologia tipica È un alieno raga Io chiudo Calabria Sono Calabrese io Sono Calabrese E anche Manu E anche Manu Solo Manu Cos'è gli è successo? Lo sfondo Sulla storia di Manu Sola notte Ma non si è racconto Ciao Ciao bro Vai E dici come ti chiami Come ti chiami con la tua lingua E dimmi E dici No 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 Parla Parla di qualsiasi cosa Nella tua lingua Non dire a Simone di dove sei No 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 Parla di qualsiasi cosa Anche perché Stanno già perdendo Allora Guardi Guarda verso di noi Simone Non guardare Oh senti Scusa Sì però dici Ce l'ho Aspetta tua nonna Come si dice? Nonna Giuse 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 E come si dice Se o mai non c'entra nulla Con rumeno Allora Allora è tedesco Dimmi il tuo cognome Per favore No Tedesco lo sa bene Non è tedesco Aspetta è cognome 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 Sciala Sciala Io chiudo Albania E come ti chiami il nome? È Ildrik È tipo YLL Dritt Io chiudo Albania Ildrik Adò bellissimo Ildrik Cos'è che chiudi tu? Albania Io chiuderei Albania Vabbè bro Gliel'hanno spumato in chat Ma che cazzo vuoi? Albania Ma ho la chat Ma allora mettiamo la chat Ma basta Gioe Ma scuola Ma tu non ce l'hai la chat Gioe Cosa ti scrivo nella tua chat? Non la sto guardando io Non la sto guardando Non la sto guardando Certo Quattro schermi L'hanno spumato L'hanno spumato anche a me Albania E pensavo di dirlo io Solo che l'hai detto prima te Oh Manu proviamo Kosovo Che ha attaccato Posso dire una cosa Prima di tutto Cioè No dai non dico niente Non dico niente No no dici dici tanto L'hanno chiuso Albania Avete già chiuso tutti? No 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 Non ancora Io e Manu no Cioè Neanche noi Neanche noi Io Pensateci Io dico Svizzera Allora Cazzo Non è Albania Non è Albania Ti dico pure Cantone austriaco Porca puttana Ma che te Scusa Di una frase tipo Oggi ho proprio voglia Di pesce Puoi dirmi Uno stipendio medio Dello stato in cui abiti Medio Cento Mille Al mese Ok bro Non sono in Svizzera Svizzera Kosovo Accendiamo Kosovo bro È di fianco all'Albania È l'unica roba Ci si fa In vacanza In estate Nel tuo paese Avete chiuso Albania Aspetta Non ero per cazzo No Vaffanculo È una meta Se non la dici Se non la dici T'albania No Ok Di Albania Ci di Albania No non voglio dirla Volevo solo fartela locale Allora Ti faccio una domanda io Nel tuo paese Cioè nel senso Qual è la La dimensione media del pene Perché sono la classifica memoria Ok Hai la mamma che Qual è la dimensione Del media del pene Del tuo paese 14-15 Penso Sì è Bro Dove siamo In Africa Figa Non è Africa 17 Non ha proprio i lineamenti Certo Non ha proprio Non so perché Gli zigomi Gli zigomi più che altro Però anche Serbia Non è male No Serbia non è male Aspetta Tu conosci un film Che si chiama Serbian film Ok Minchia io sì zio L'hai mai visto? Sì 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 Sono anche segato Ma Che squadra di calcio tifi Cioè Cioè Era non italiana Non italiana Della tua Figura Vabbè Grande Avete sentito È milanista Milanista Vabbè Tutti fuori dall'Italia Sono milanisti Anche tu Manu Anche tu Manu Sei milanista vero? Sì sì Tutti a Milano Però sono interisti Coc Tu quando Vede la partita con Manu Eri milanista o? Sì lo sono stata Per un periodo Adesso non sono più niente Ok Ok va bene Per caso di corrompi Noi diciamo Noi diciamo Kosovo Kosovo Però secondo me Non è Kosovo Cioè Coc Guarda C'è l'aria Da illegittimo Guarda che Guarda che Simo Qua è Ironia politica Simone Non risponde Ok Macedonia Ma che è Macedonia Bulgaria 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 Per una volta Che ha sparato Coccash Degli era buona Prendi il suggerimento Del ragazzo Prendi il suggerimento Ti vuole far vincere Gioe È Macedonia Aspetta Aspetta Allora Allora va bene Allora vediamo Mettiamo Macedonia Allora il Ti giuro Se non è Macedonia Ti vengo a prendere Ovunque sei E ti apro la testa Ok Vai Macedonia Macedonia Lì cazzo Mi sco adesso Macedonia Io Locco Insieme a Coc Ti voglio bene Grazie della risposta Macedonia Locca Ok Prego Vai Vai C'è Ma un vero Mamma È ma zio La vera loccata Va bene Tu vieni dalla chat di Giove Vieni dalla mia Eh no Vabbè Però Anche No Grazie E viva il Kosovo Conquisteremo il mondo Allora Però Tu avevi detto Albania Quindi l'avevamo presa a priori Se non ti fidavi di Karen Io mi prendo la risposta Io ho detto Kosovo Soltanto perché lui ha detto Albania 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 9 Allora Eravate a 2 Avete indovinato lo stato 9 a 4 Io non mi prendo la responsabilità Ovviamente è auto Gestito Alzo le mani al cielo Chiedo scusa a tutti Non c'entro assolutamente niente E' auto Successo tutto da solo E' il Il flusso delle cose Salve Buonasera Ma gente come noi Non molla Sono Gilbert Nana Campione del mondo Paleggi con la testa Ok Non sei Gilbert Non sei Gilbert Beh però Siamo lì Dici tutto Vai Parlaci nella tua lingua Damai il cazzo andai Ok E' del Congo Puoi dire qualcos'altro? Eh Nalade Mai sì Dove Fratello questo è Seregal Mio fratello Sadio Manè Oddio E' vero Il mio manager del Senegal Bro Ma quanto è drippato Facci vedere bene i capelli Facci vedere bene i capelli bro Eh bro Senegalese Il mio fratello Puoi dirmi Sadio Manè Sadio Manè Bro Ma adesso è meglio di me Capito Capito Puoi dirmi Calidu Kulibali Calidu Kulibali Niente Mio manager Potrebbe essere Senegalese Ho scritto Ho scritto a Dennis Inutile che mi scrivi Non lo so Il senegalese Niente Danny Allora Nigeria Quanto sei alto bro 1,75 Dove abiti in Italia A Forlì A Forlì Posso fare una domanda Sei nato qua Sei nato da piccolo Sì qua No qua Ok E i tuoi genitori dove sono? Grande Allora vabbè comunque È Africa È Africa no? Sì Ok dai È un continente Un continente Un continente Ce l'abbiamo Che lì Ce l'abbiamo Allora Nigeria Io ho provato a stare Forlì No Non Aspetta Puoi dire Italia bro Se è nato in Italia È italiano Quindi Italia Dai Levate dal cazzo Manu Aspetta Tu lo conosci Aspetta bro Tu lo conosci Kevin Prince Boateng Eh il Boat Sì che lo conosco Bro Ok È del Ghana Non è che se conosce Boateng Bandiera del Ghana E bandiera del Senegal Anche abbastanza simili Quindi ci sta Però è Cioè non so se si può dire Però Boateng Non so se si può No 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 Sì sì si può Io so cosa stai per dire Si può Ok dillo tu Allora posto mio È rubato? Dillo tu Gio No non ho capito Cosa volevi dire Simo No Oh Sì appena l'avresti detta Avrei detto Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Sì vabbè quello sta cercando Suggerimenti Allora ti chiedo Non è Non mi asco Mi asco tutte le cose Vuoi fare una collab Uomo nero Sì è Poi mi viene In testa No ora Allora Uomo nero Vabbè Simone Mi chiama Non c'è Dai Simone dai No Simone No 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 Guarda che mi fa bannare bro Mi fa bannare No 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 Mi fa bannare Non lo scherzo Lo giuro su tutto Signore Signore di Twitch È uno scherzo Ovviamente se l'hai chiamato lui così Lo giuro su mia mamma Veramente Allora Ma sì ragazzi Essere razzisti nel 2023 Da persone stupide E ignoranti Anche non nel 2023 Diciamolo In generale Ma sì ma adesso che siamo tutti svegli C'è una coscienza Saremmo veramente idioti a essere razzisti omofobi Bravo Se ogni tanto scappa una battutina Si fa la battutina sullo stereotipo Non siamo veramente razziste Questo penso che sia una roba scontata Bravo Bravo Quindi non dobbiamo neanche justificarci da queste cose Bravo Tutti tranne Simone Che sappiamo tutti che è un razzista omofobo nazista del cazzo Grazie Scusa nel tuo paese Scusa nel tuo paese Nel tuo paese Il cognome Fall È un cognome No è un nome Minchia Danny Sei proprio un altro storto Dio buono Vabbè Io so a cosa stai Perché Fall è un nome Ma è un cognome Danny se l'ha come cognome Vabbè è un disastro Vabbè Senti io dico Nigeria Vaffanculo Così Vaffanculo alla Nigeria Hai detto? Molto 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 Più Razzista Omofoba nazista Che sei Ma come puoi dire In Nigeria sono molto più scuri di lui Minchia più scuri di lui No 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 Zio fidati In Nigeria sono proprio tanto 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 Ma che cazzo Minchia Però sono brusato Nel senso che ho preso tanto sole Quest'estate in vacanza No esatto Si è stata a Sanzara Con Rubino L'hai limonato Speriamo di no No bro Ok vabbè Simo Posso farti una domanda Semplice Vai bro La nazione Quale diciamo Alle origini Ha fatto l'ultimo mondiale Quello del Catarla Si 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 L'ha fatto L'ha fatto Senegal bro Allora Non so se il Senegal c'era No Proviamo il Io provo Il Ghana Dai Io chiudo Va bene Io chiudo Ghana Sei musulmano B bro Sei musulmano Di una bestemmia Vabbè Sono B Sei Porco Dio Questo non è di africano Non è la lingua Non necessaria Non necessaria Sono pan Sono pan Sono pan Sono pan Come sono trans Sono pan Sono pan Sono pan Pan Ah sei pan 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 Sessuale Ok Comunque In Senegal Zio sono tanti Perché Senegal È uno stato molto evoluto E Sanno tanto di gender fluid E di queste Nuove Invenzioni Allora Per me È E io la chiudo Adesso Basta Gana 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 Dobbiamo scegliere 3 2 1 Senegal Ok vai Lo dico Sì Vai Senegal Frate È Bula Allora Due cose Il mio manager Dennis che è senegalese Veramente fai vomitare Tu Cioè Mammi che falla È uno dei cognomi Ma ha detto che è più iconico In Senegal Come fai a non saperlo No ma hai sentito come Hai sentito come ha detto Sadio Mane Ho detto Sadio Mane E cosa c'è Mi ha corretto Perché io ho detto Il nome di un giocatore di calcio Del Senegal E mi ha corretto La pronuncia Grande Vabbè Grazie Grazie bro Il bro stava Bella Bella Forlì Quanti punti siete? Eravamo 9 a 4 Siamo 11 a 4 Perché ho azzeccato lo stato Porca puttana Fenomenale Ah ma c'è anche i coq Molendo vina lei Guarda Buongiorno Questo è il Friuli Busson Buongiorno Bergamo Sicuro Busson Tu sei proprio Del Friuli Venezia Giulia Totale Vai Marco Poi Dai Preperi A voi Exemate Vai iniziate Come inizia Hai detto Parla di più Parla di più Ho detto niente No questo qua raga è il dialetto È il friulano Ve lo giuro Puoi dirmi Puoi andarmi a fanculo No mi dissocio Croato zio tipo Insomma non è Albania Non siamo in nord Europa Non siamo troppo all'est Croazia mi piace Non lo sto loccando Io locco Croazia Io locco Croazia Succa Io locco Croazia Se ne va Brava Dove prender l'acqua Se siamo fatti per stare insieme Coq vieni qua E ciucciamelo Scusami Perché Perché hai loccato Croazia Perché volevi loccarlo tu Voi vincete sempre Ve lo freghiamo E soprattutto perché Quando ho tu detto Croazia Lui Non te ne si è accorto Ma ha detto sì Senza accorgersene Ha fatto spallucce tipo No aspetta Marco No però secondo me lui guarda È molto troll lui Ha fatto tipo Capito Marco Non è croazio Marco hai veramente detto Sì quando io ho detto Croazia No non ha detto sì Non puoi chiederglielo Sta a te Vabbè Sta a me Allora zio andiamo vicino alla Croazia No aspetta aspetta Voglio sentirlo ancora un po' Ok comunque loro hanno loccato Non posso più Un chiedere un cazzo di niente Bosnia e Herzegovina Bosnia e Herzegovina Bosnia e Herzegovina No 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 Grazie 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 No no Grazie Marco una domanda Qual è il modo Il metodo di trasporto Più veloce Per arrivare nel vostro paese Aereo Aereo Domanda di merda eh Non devo dire di triciclo Non ho capito Tu dove abiti Marco Eh io abito a Verona Abiti a Verona Sei venuto a vedermi All'arena Sì A Red Carpet Veramente Sono abito dentro Wow Mi sono stato completamente Dall'altra parte Eh ho fatto tanti indietro Facca vacca Peccato Vabbè andiamo avanti Dai Quindi Cazzo non mi viene Devo sentirlo più parlare Perché se no Mi sa che sono solo quelle tre parole Allora Ehm 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 Siamo un dialetto italiano Vi giuro Fra io Io c'ho due dubbi C'ho O Polonia Repubblica cieca Quindi ancora un po' più est Polonia non è Oppure io starei vicino Io starei vicino alla Slovenia Quindi Cioè starei vicino alla Croazia Quindi Slovenia Complicato Dovete decidere Dieci Nove Oto Ma va a fa un culo Zio Ah ma non c'è il tempo Certo che c'è il tempo C'è il tempo Aspetta 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 Riparla Eh è arrivato È arrivato l'intuizione È arrivato l'inizio No aspetta aspetta Ma cosa ti devo dire Dimmi tipo Ciao come stai Tutto bene Aspetta ridillo È greco Come greco Ma che cazzo Mi dici qual è il tuo cognome Originale Busson Eh drasni Però Busson È di mio papà Drasni È di mia mamma È drasni Ok drasni Cazzo Secondo me è Grecia Dai io mi fido di te Manu Aspetta 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 E mi dici tipo Un rapper famoso Della tua nazione Eh rapper no Cioè non ci sono Proprio Sono i casi indietro Perché li conosco Quelli greci E qual è il cibo Qual è il cibo tipico Che si mangia da te Goulash Porca madonna Sto goulash Vabbè bro L'abbiamo detto prima Ungheria Ebbè Ungheria O Repubblica Cereca Lì si mangia il goulash Però lì c'è Quello originale Il goulash Vabbè Ma pezzo di merda Ma tu stai tutto il tempo Che proprio a far vincere Simone È un merda Ma io ho già loccato Non è che prova Non è che prova A farmi vincere Aspetta Marco Dove sei tu C'è quello originale? No beh Non rispondere Non rispondere Ok Ungheria Ok Ungheria contro Croazia Basta Loccatela Vai Marco Repubblica Cereca Oh mi ha vinto Siamo ben vicini però È più vicina Ho detto Repubblica Cereca Repubblica Cereca O Ungheria Marco Busson Se dovessi scegliere Di andare in vacanza In Croazia O in Ungheria Dove andresti? Croazia Ok due punti per noi Ciao grazie Marco Grazie mille Davvero grazie Ciao Marco Stami bene Ci vediamo Grazie Come non all'arena Grazie Ciao Ciao Bravo All'arena Ok siamo Ma che cazzo dite Avete detto Ungheria Sì Abbiamo detto Ungheria Che l'Ungheria È più vicina Alla Repubblica Cereca Ok Allora facciamo così Facciamo così Vediamo se avete le palle Siamo a 12 a 4 Siamo a 12 a 4 Fermi un attimo Vediamo se avete le palle Voi due Ok Il prossimo vince tutto Il prossimo vince tutto No 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 Adesso facciamo gli ultimi tre Questi tre Punti doppi Se Punti doppi Se li indoviniamo noi E metto in palio Il doppio degli abbonamenti Però se perdo Va bene Va bene Aspetta Sì 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 Per me va bene Vuol dire che però Se lo indoviniamo Vinciamo noi Basta Siamo nella loro testa bro Accetta Se lo indoviniamo Sono 4 punti Sono 4 punti Se lo indoviniamo Se lo indoviniamo Allo stato esatto Sì Se no sono due Se no sono due Per loro è double exp Va bene Ci sta Quindi sarebbero 10 sub a me 10 sub a me Ah no niente Matematicamente perdere comunque E cazzo Lì di sì No non perderesti comunque zio Se sono 4 No no Non perderesti Se da 4 Vorrebbe dire indovinare tre stati 16 a 12 Eh le devi indovinare tutte e tre Vorrebbe dire indovinare tre stati Che comunque non è facilissimo Vabbè proviamo Sperando che io e Manux Non diciamo niente Non sappia niente Tra l'altro L'accettate? Cioè confermate sta roba? Ma va ma Cocco non ha una lira No devo accettarla io Vuoi accettarla tu Cocco Se ce ne spezziamo Eh? Sono 10 a testa 10 abbonamenti a testa 10 abbonamenti a testa 10 abbonamenti a testa Dai sono 40 euro Col cazzo Anzi guarda Con la tarta Aspetta aspetta Facciamo una roba così Il 26 settembre Così lo ricordiamo Alla chat Se vogliono far raggiungere Anche Simone Il suo obiettivo Dal 26 settembre Gli abbonamenti saranno In sconto Come le sub Normali Ci sarà il 30% Off Sugli abbonamenti regalati Ah sui gifted Sì Sui gift Quindi io Sarei disposto ad aspettare Il 26 per farveli pagare Molto meno Per scontare la vostra Io no Ci sto Quindi non li dovete riscattare subito Cioè Posso aspettare anche 10 giorni Ci sto Accetto Ci sto Io li voglio adesso Però Solo Solo i nostri punti Valgono d'occhio Attenzione Va bene Va bene Va bene Andiamo avanti 3 rimasti Allora Ma questo è Un gioco pulito però Sì 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 Non paro Non tanto per i soldi Ma per il gioco in sé Comunque Ok Ciao 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 Inizio a parlare Sì Lo stai già facendo Simpatico Ancora Ancora Ciao mi chiamo Rami Wesh Asmi Rami Stop Marocco Marocco L'ho detto prima io Loccato 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 Marocco Loccato No 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 ragazzi Nessuno ha detto la parola Loccato Nessuno ha detto la parola Loccato E per bloccare la parola Si dice Loccato Per favore Mio Va bene Posso dire una cosa Posso dire una cosa Io te lo lascio Marocco Ma sei veramente Un pulciaro Allora Ok Perché il marocchino Non so se si parla solo Va bene Va bene Allora non è marocchino Algerino La Locco Eh poi Sì vabbè Ma vaffanculo ragazzi Vabbè dai 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 Ragazzi ma per 30 euro Ma per 30 euro Io Locco Algerino E lo dico qua Davanti a tutti Io se lui non è Algerino Mi taglio le palle Davanti a tutti No No dai Questo non serve Ok dai Io diciamo Marocco Lo chiamola Lo chiamo Marocco Rami di dove sei Algeria Io lo sapevo Perché si capiva Si capiva Dal Ciao mi chiamo Rami Che cazzo stai dicendo Sì Oh Quattro punti per noi Avanti Sì Bene Ciao Rami Torino Oh grande Il Marocco L'Algeria Minchia Sei un mito Non è già uscito da solo Va bene Prossimo Prossimo Non ho Gioe 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 Non ho barato Non ho barato Io ho pensato Marocchino Poi Secondo me il ragazzo Ha mentito palesemente Per farvi Ceresimo No 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 Maurizio Ciao pronto Come stai Dici tutto Bene bene Inizio a parlare Vai Vai parla Aspetta un attimo Aspetta Scusami Maurizio Scusami Maurizio Scusami Maurizio Ho una piccola roba da dire La chat Mi ha appena detto Che qualcuno Ha cercato su Instagram Rami Torino No 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 Ha cercato su Instagram Io adesso Io adesso Io adesso Sto tirando fuori il telefono Sto tirando fuori il telefono Apro Instagram Io scrivo Rami Torino Rami punto Torino Tu comunque non puoi sapere Se Simone l'ha fatto Oppure no Scusami Esatto Non puoi dire una roba del genere Come si chiamava ragazzi Come si chiamava Rami Rami punto Torino Trattino Basso Scherzo Non lo so Rami punto Torino Trattino Basso No Torino con due O Mi dispiace ma Non puoi provare nulla Gioe Con due O Vabbè apri apri Vediamo Stai facendo meta Però vabbè Rami punto Torino Con due O C'ha la bandiera Vabbè meta per un vostro punto Ma non è vero Ma non le so le bandiere Ma non le so le bandiere Non sarà quella dell'Italia C'ha la bandiera dell'Algeria C'ha la bandiera dell'Algeria Allora Ragazzi 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 Si sta parlando di 39 euro Io di Simone mi fido Simone non ha imbrogliato Non l'ho imbrogliato Va bene va bene Ragazzi non penso che Simone Inbrogli per 30 euro No 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 Morizio scusami umilmente Siamo 11 Eravamo 11 a 4 Avete fatto 4 punti Siamo 11 a 8 Morizio Vuoi parlare prego Vai È tedesco Tedesco punto tedesco L'ha detto prima Simone Germania Dico la nazione La locco No non vai Vito Un grande Ma che cosa Tedesco No Cook Mamma mia Cook Sei inutile Ma pure Ma pure Quello di prima è arabo Ok Quello di prima è arabo Poteva essere sia marocchino Che algerino Ok Io locco invece Germania Io gioco Locco Germania Ricordati Maurizio È importante L'accento È importante Ok La parlata così La parlata così Può essere o tedesca O austriaca O svizzera Ok Dici di una Il Maurizio è tedesco Di io sono Maurizio Io mi chiamo Maurizio Tipo schiamato Aspetta posso fare una domanda? No C'è il colore bianco Nella bandiera della nazione In questione No Germania È Germania L'abbia alloccata L'abbia alloccata L'unica cosa che ti posso dire Simone Prova a dire No Austria e Svizzera C'hanno il bianco Monaco Ma Dove sei Maurizio? Germania Eh vabbè Grande Siamo a 16 A 8 Grazie Maurizio Grazie mille Da 12 a 8 Passiamo a 16 a 8 Ma questo è un tono sbancatore Scusami Da 12 a 8 Passiamo a 14 A 8 Perché per noi non è doppio Ciao Selvin Non ti sentiamo Selvin Eh mi sa che c'è qualcosa di sbagliato Col microfono Eh Non che dipenda da me No Selvin Prova a uscire e rientrare Repubblica multa L'avevi fatto un'intervista con una ragazza della... Sì 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 Ora sei nella trasmissione The One Piece Is here Ok Siete E lui è marocchino E lui è marocchino Cazzo Tunisino Tunisino Sardegna Cazzo Sta lingua Sta lingua Ragazzi Sembra quella di Baby Gang Rintuona dentro le mie ore Io ce l'ho Io ce l'ho ragazzi Io ce l'ho Io lo chierai Tunisia Io lo chiamo Tunisia Cocca se mi l'hai permesso Io lo chiamo Tunisia Subito Somalia Avanti Sentiamo la risposta Ma tu sei un basso Ma tu leggi Ma tu no Non vale Non vale Non vale Non vale Hai scammato Dove ha letto? Green Green hai letto Fidati Ma dove? È impossibile che tu l'hai indovinata così Hai guardato la mia tuta Certo Eh certo Io non lo leggo Ma che gioco è? Ma dai Eh beh bro Ognuno utilizza i cosi Ma aspetta Ma c'è scritto Somalia sulla tuta Ma io non lo leggo C'è scritto proprio sulla tuta Somalia Ma poi che vista hai? Ma in Manchester City Ho il tuo amico Ho il tuo amico Che gli ho scritto su Instagram Che gli ho detto che sono somalo Che l'ha detto Che ha fatto l'infame E secondo me Ha snicciato Ha snicciato Oh Chi è che gestisce Quella pagina Instagram? Non lo so Oh Green sto parlando con te Dimmi la verità Ha snicciato Ha snicciato No Ha snicciato Non lo so Green stai facendo il furfacchione Allora Io mi dissocio Mi dissocio Dal mio compagno di squadra Ok Quindi Rilascio su di lui Tutta la graviosità Del dover chissare le sub Per la nostra Allora No 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 Aspetta aspetta Mi dissocio Da questo truffatore Fermi Fermi Solo questa però Perché mi è arrivato il messaggio Fede Yuke mi ha scritto Oh di che Solo questa E però dai Si capiva Era per la gag Ha detto tre parole Ho detto Lo so È Somalia Amiche che cazzo sono Il capo Nell'Africa Dai Per me va bene Ti entra l'aria in bocca Dai Secondo me se Heidi pirata Non avesse fatto Quella reazione No non è vero Non è vero No non è vero Dai Ma quanto Scusami Quanto era gag Il fatto che io Sento una frase Una frase Dico Aspetta bro No questa sicuro È Somalia Minchia Io genuinamente Pensavo di non aver visto Che c'era scritto davvero Somalia Che l'avevi letto Io sono stupido Ho detto vabbè bro Ho sbagliato io Che non ho letto il coso Cioè Pensa a quanta fiducia Ti voglio Questa era una gag Questa era una gag Allora Io mi sono sentito un coglione Perché pensavo ci fosse Allora 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 sto così adesso Sì vabbè Fallo in Italia almeno Ok No salvi No No Alla maglia della Juve bro Sempre Eh Salvi puoi iniziare a parlare Con la tua lingua originale È facile È facile Brava 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 Lo chiamo Lo chiamo svizzera francese Dai Lo chiamo svizzera Diamo il punto Vabbè in realtà allora Karen ha detto francese Già ha detto Francia Però Francese Francia Francia Locato Locco Francia Francia locato Ok Savi Aspetta Aspetta a rispondere Eh Manu Possiamo dire Lui ha già fatto di no con la cosa Possiamo dire O svizzera Dove parlare O è svizzera O è l'ussemburgo Monaco Con le due robe lì Salvi Visto che l'hanno loccato Puoi dirmi uno stipendio medio nel vostro Puoi dirmi uno stipendio medio nel vostro paese Trenta euro Tremila ottocento Due Svizzera 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 Locchiamo Svizzera io e Manu Salvi Di dove sei? Svizzera No vabbè Mamma mia Simone Dai Ma dai Madonna Non ci voglio credere Eccolo Eccolo Minchia gioia Ma fa in culo però C'è Coc 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 Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cioè ti rendi conto di stasera? Ma ti rendi conto di coca? Ma perché tu invece hai fatto un lavoro di Cristo Certo Certo Ma certo che coca? Guarda bravo Bravo Svizzero Svizzero Hai sbagliato Coc Hai sbagliato Guarda Grazie al cazzo Lo so Digglielo Salvi Digglielo E' bullizzata anche dagli ospiti Va benissimo Non c'è problema Allora Grazie Salvi Grazie mille Salvi grazie mille Ciao ragazzi Allora Se avete le palle Se avete le palle Siamo 18 Palla regina Attenzione No Sei 18 Attenzione Se avete le palle Io vi propongo questa cosa Aspetta Aspetta Il prossimo round è quello definitivo Se vincete voi No se vinciamo noi Voi ci date le vostre 5 sub a testa Se invece vinciamo noi Io Dono a ognuno di voi 25 abbonamenti Sono 75 sub Quindi sono 4 Sono tipo più di 300 euro Ho sbagliato Vabbè Ognuno di me due No zio No posso dire una cosa Non sono ludopatico Non sono ludopatico A me non mi interessa Che mi dai O 10 O 5 sub A me interessa Che io e Manu Abbiamo fatto un bellissimo percorso Siamo riusciti anche A scammare Lo scammatore Per eccellenza Ma vai a cagare va Francia Loccato Non francese Svizzera Coglione Svizzera Abbiamo scammato Lo scammador E ci teniamo Lo scammador E non accettiamo Non accettiamo Vuoi chiamarci pussi Che non abbiamo accettato Chiamaci pussi bro 500 abbonamenti Allora Perché comunque Ci sono pure dei punti canale In palio Non è che sono solo I nostri soldi Quindi sarebbe scammare pure l'oro Quindi no 500 abbonamenti A testa No 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 E qua I punti canali della gente Valgono più di quei 500 euro Ok Manu Ti do la password del mio conto bancario La mia macchina La mia casa E ti do anche se vuoi il mio gatto Ti prego fammi vincere Mi ho comprato due Simo Vi do anche mia madre Tutti i giorni disponibile Dalle 3 alle 6 di sera No 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 Va bene Allora facciamo l'ultimo round Che vinca il migliore Vai Buonasera Bella Andrei Ciao Gio Prima che inizio Scusatemi Sono un po' così Perché Insomma Seguo Greenball da tanto E sono un po' aggistato Scusatemi Tranquillo Non c'è un problema Bella la porta rossa Tra l'altro Ciao Perché Seguo Greenball Sono un po' aggistato Scusatemi Perché che sfida ti sei No Ma dai Ma sei un bastardo Gio Locco Romania Non ha ancora parlato Infatti non vale Però il nome è rumeno Andrei L'ha bloccato L'ha bloccato No L'ha bloccato Romania Dico Andrei Eh loro hanno bloccato Posso dirlo? No 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 Parla la tua lingua Eh vuol dire che è quella Buonasera Sono andrei Ho 17 anni Mi piace se Ma è napolitano Mi piace se gioco Forba Mi piace se muoio la piisage Mi piace se muoio la scuola Puoi dirmi Puoi dirmi Vabbè tanto ho bloccato in Romania Puoi dirmi Viva Greenball E chi fa le live con lui High Greenball Cercini faci live con lui Porca puttana High Greenball Andrei Come ti chiami di cognome? Olaru Tu i maschi Eh? Olaru Olaru Romena Olaru però Stardo Eh con la U Eh no con la Pisciotto Maurizio Pisciotto Dici vibes Ci sta Vabbè senti Noi diciamo Albania Allora Ci sta Ha senso Potrebbe essere Però potrebbe essere Una vicina alla Romania Che è Albania Io so Sì ma è Manu Olaru C'ho uno dei miei migliori amici Che si chiama Olaru di cognome È rumeno? Io butto Mondavia Io sono invece Tra Moldavia No 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 Moldavia Lo locchiamo noi Ah lo loccate voi Ma che cazzo Ti avete già locato Rumania Manu Vabbè vai vai O Albania O Moldavia Simos Scegli tu No Loro hanno già locato Moldavia Cosenza Ma tu Noi non abbiamo locato Ho capito Ma loro hanno già scelto Romania Come tu Devo dire Coc No ho capito E noi cosa abbiamo scelto Albania Moldavia Moldavia Che tu stai seguendo Moldavia Ma senti Come ho detto Albania No Moldavia Non ho mai detto Albania nella mia vita Simone Non ho mai detto La parola Albania Mai detta Io ho detto Ma ha detto Moldavia I have become death Ok io dico Moldavia Loro Romania Va bene Dove sei? Ragazzi Io sono Della Romania Grazie Grazie Andrei Grazie Milla 18 Bella Andrei Anche a te Allora 18 Allora Giue Vuoi una casa più grande Vai Aspetta No Stai facendo il cabrone Basta Non è una cazzata che il vero giocatore smette quando c'è la prima vincita No Guarda che Secondo me il prossimo Secondo me il prossimo Sai esattamente di dov'è Chi? Io? Sì Zio Ma aspetta aspetta a farlo entrare Aspetta a farlo entrare Ma ne ho 40 nel backstage Zio Secondo me il prossimo sai esattamente di dov'è Dimmi un po' cosa volevi propormi No volevo comprati una casa nuova se mi Cioè se valeva l'ultimo punto L'ultimo punto valeva tutto Cioè è un disastro Quindi era l'ultimo? No 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 Sì buona ragazzi dai Buona bro dai Oh Fanno entrare Fanno entrare Fanno entrare Nicola Joe Come si chiamava? Ok vabbè dai lo faccio entrare Nice Fan di Simo Joe Ah no ma è inferiore a Greenbound Ma sto coglione gliel'ha cambiato lui Ma dai Bastardo Ma lascialo così Lascialo così Beh la Nicola Ciao Guarda chi c'è Parla parla Lo chiamo Albania Albania Puoi dire ciao mi chiamo Nicola Albania Ma raga questo è friulano No no Non è Il bro secondo me sta inventando le parole Allora Nicola Dimmi Sai che anche Olanda mi piace? Eh pure Nicola dimmi che sono una merda La tua lingua Tu 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 Ancora di Scusami Scusami Mi sono fatto una te Prende un momento Eeeh Ok io ho un locco Eh coq Austria Ok mi piace No però no No aspetta no però Perché No non è austro Non l'ho scritto nessuno A me risembra qualcosa Del leste Tre uno due tre quattro cinque In la tua lingua 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grazie, Guzzi. Il 2 è svizio. Il 2 è svizio. Ok, svizzero loco, svizzero loco. L'ho detto io. Ma tutto il cazzo tu. Non l'hai loccata, non l'hai loccata. Prima Joë, prima Joë, l'ha loccata. Non l'ha loccata. L'ha loccata, l'ha loccata. Porca troia. Allora, io locco non svizzera, ma io locco la svizzera tedesca. Ma vabbè, non esiste. La parte… No, svizzera, parlano italiano. Svizzera, parlano anche italiano. Vabbè, ma la nazione è svizzera. Svizzera. Va bene, dai. Allora, io locco il Senegal. Austria. Austria. Cose locchi? Il Senegal. Il Senegal. Allora, ok. Io locco l'Austria. Austria, loccata. Vai. Grazie Lozano, grazie Foschino, grazie Nitro, grazie Annel, grazie Guzzi. Va bene. Dai, va bene, dai. Grandi. Va bene. Grazie Nicola, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Come si dice ciao Nicola? Gruzzi? Tschüss. Ah sì, quando ti presenti, Gruzzi, quando vai, tschüss. Dai, ciao Simone, eh, ciao. Guarda, guarda, fuori riguardo alle live di Giove, guarda, si è fatto pure male al braccio. Dai, grande Nicola. Ma è buona, 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 buona. Buona, buona. Anche perché ho finito. Oh ragazzi, bello sto format, eh. Sì, oh. Bello, bello. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Quest'amore so che sparirà. Ora non mi muovo, ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio il na-na-na. Ma non posso fare per le cose, sì, quelle che dici, ma come possiamo fare...